Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un nuovo video del gioco di Brawl Stars Ve lo dico già da subito che è un bellissimo gioco entusiasmante, emozionante e anche molto bello più o meno di Clash Royale Prima di cominciare questo nuovissimo video lasciate un like di mi piace come sempre e continuate a iscrivervi al canale che è GabriGamer99 Per questo video voglio un sacco di like e spolliciate tantissimi, mi raccomando Allora questo gioco consiste in Brawl Stars, che bello, che dobbiamo sparare gli avversari, li dobbiamo uccidere Per accogliere le gemme oppure per proteggere la cassa porta a seconda delle sfide che si fa in questo gioco, va bene? E ve lo faccio vedere in esclusiva, mi raccomando, spero che questo video vi piaccia tantissimo e vi auguro una buona visione La faccio vedere in esclusiva Ok, mi sento FabiJ in questo momento Comunque Ah, ci tenevo di questo video, ci tenevo a fare lo spravviso Voglio fare gli auguri a tutte le persone che le auguro a tutti Una buona vigilia di Natale a tutti quanti Vi faccio gli auguri a tutti E niente, cominciamo Facciamo la sfida Eh, mi lavo questo pollice Scusate Ok Lascio vedere in esclusiva la battaglia Ok Con questo gioco voglio tantissimi like Ok Ecco Questo è il mio stesso personaggio che ho in questo momento Ah, mi sono un po' sconfitto Anzi in questo gioco mi posso ricaricare E poi se mi colpiscono posso riprendere a combattere Quindi è una cosa un po' molto bella Allora Gli attivi avversari Prendono le gemme Ora secondo il numero delle gemme Se arrivo a 11 Vinco io Se invece gli avversari vincono Perdiamo però In questa sfida del nuovo video Che vi faccio vedere in esclusiva Pro Stars Devo vincere io a tutti i posti Questo è il vantaggio Entro poco di pazienza E avrò vinto Questa battaglia Togliamoci ai ripari Ok Togliamoci a riparo Cos'è che mi possa per riparmi L'hanno in via Ho fatto nulla a combattere C'è questo guerriero Che ha una mossa di sparare i ripistralli Che non ci posso credere Non riuscire ad attaccare Ah Ho scelto Stendo tanto Mettiamo scappiamo Ok Oh no Penso che... Eh vabbè Così l'ho fatto vedere In anteprima Vabbè L'ho perso L'ho raccolto più già Noi ne abbiamo raccolti tre E loro hanno superato l'11 Va bene Nella prossima sfida Per concludere Cercherò di vincere Ok Per concludere questo nuovo video Va bene Facciamo un'altra battaglia Let's go Allora ragazzi Mi spero che Siccome A fine che il video non si sente Ho levato l'audio In modo tale che Si sente la mia voce E vi spiego tutto il gioco Il combattimento Va bene? Mi raccomando ragazzi Lasciate like Per questo video epico Molto bello Sicuramente ho preso con i commenti spero Anche con gli appassionati che ci giocano Claudio Gabriele Shortino Nonché il noce pesca E lo incito durante questi video Allora finora la battaglia sta andando abbastanza bene Ho raccolto 6 gem Mi ha sconfitto Il mucciaccio Con il cappello Che è un guerriero spagnolo Un guerriero spagnolo Ah La vede un po' dura qua Spodiamo di vincere la lapina E ci proviamo dai Se lo pergo Non fa niente Ok Fatemi raccogliere E una gemma Ok Ok Distruggiamo Il mucciaccio Andiamo via Non sono riuscito a scappare in tempo Che mi ha sconfitto Il mio stesso personaggio Con la capacità di sparare E siamo messi abbastanza male Allora vediamo di recuperare il più prima possibile Prima che perdiamo Ah Dai Al momento da fare Non ci siamo riusciti Niente L'ho perso E ora avevo fatto vedere la dimostrazione di questo bel gioco Non fa niente Va bene Spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo Lasciate tantissimi like Mi raccomando Ci compro Vi faccio il lavoro a tutti quanti Di una buona vigilia di Natale Ci vediamo al prossimo video Ciao belli